Siamo ancora qua ai Carboni, sempre di sabato 23. Stiamo individuando un posto dove farci del mare la prossima volta. Sul GPS e qui abbiamo un ingresso, l'ingresso dei tre anelli. Tira un sacco di aria. Calda ovviamente, siamo veramente a 10 metri, si può vedere un po' di panorama mezzo agli alberi, un po' di roba ghiacciata, carino.